Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. La povertà non si risolve solo con il lavoro, ma dando la giusta dignità al lavoro, perché, contrariamente a quello che si pensa, la metà dei poveri ce l'ha un'occupazione ma mal pagata ed ha un reddito così basso da non riuscire a fare la spesa la terza settimana. Ci sono poi tutte quelle persone che non possono lavorare in quanto ammalate o perché hanno un disabile in casa da assistere. Anche queste famiglie verranno supportate dal Banco Alimentare che approda ad Ariano grazie ad una sinergia con l'amministrazione comunale, il piano di zona sociale, l'associazione Vita. Sarà utilizzato il Fondo Unico d'Ambito a carico del Comune per un welfare sussidiario che produca più di quanto lo Stato investe. Questo progetto si chiama Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Porteremo qui un aiuto a 200 famiglie individuate dai servizi sociali, un aiuto concreto, reale, un aiuto alimentare, fatto soprattutto per poter rimettere in gioco le famiglie. Per questo la necessità di collaborare anche e soprattutto con le associazioni presenti sul territorio, con l'associazione Vita, con i servizi sociali. Per appunto questa è la sussidiarietà. Bisogna arrivare alla persona perché la persona ha bisogno molto di più di un pacco di pasta o di una bottiglia d'olio. Bisogna soprattutto di un incontro, di un incontro che la possa rimettere in gioco. La prima povertà è la solitudine. Vogliamo combattere questo attraverso la condivisione di un bisogno. Per questo condividere i bisogni, per cosa? Per condividere insieme il senso della vita e rimetterci in moto e ritornare attivi sulla realtà. Questo è un sostegno che arriva a casa, quindi rispettando la dignità delle famiglie che non devono essere esposte, non saranno esposte a chiedere a queste strutture caritatevoli che sono presenti sul nostro territorio, che hanno una loro valenza e funzionano anche bene. Quindi ringrazio in questa sede anche le Caritas che fanno un ottimo lavoro con la cittadinanza italiana. Quindi questo è un intervento sussidiario, integrativo, non è sostitutivo. Per dare un minimo di sostegno alle famiglie. 12 pacchi all'anno, quindi 12 pacchi per 200 famiglie, sono 2400 pacchi che verranno mobilitate sul territorio.